Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport07 Siamo qui per recensire la gara di Formula 1 Bene ragazzi, tralasciando che stavano in contemporanea a Juventus e Ferrari oggi A Juventus e Formula 1 Ma ho seguito sinceramente molto più la Formula 1 Infatti vi arriverà anche prima il video perché a vedere la Juve oggi è una noia mortale Di solito è il contrario perché magari ti entusiasma di più una partita di calcio che una gara di Formula 1 Perché le gare di Formula 1, bene o male, rispetto a un tempo hanno perso un po' la loro, come posso dire, particolarità Il loro entusiasmo, il loro fascino, insomma Invece oggi è veramente una bella gara Ci vorrebbero molte più piste del genere ragazzi Ma non lo dico perché se in italiano forse l'unico difetto della pista è che sono magari track limits E il fatto che poteva magari essere leggermente più grande perché per i doppiaggi è abbastanza un problema Fin dalle prime libri si è visto il problema avuto tra Perez e Ocon Era da tanto che non si scazzottavano queste due che sono anche degli ex company di squadra E insomma ragazzi Vince Max Verstappen quindi gara molto molto entusiasmante Veramente bella che mette più in risalto le caratteristiche, le abilità del pilota Che infatti si sono viste Che mette molto più in risalto le abilità del pilota e non magari quelle della macchina Ora non è che Russell potesse stare davanti a una Mercedes Non è che una Williams ora va davanti le Mercedes Anche se effettivamente Bottas e Russell sono stati accoppiati Cioè sono stati insieme per un bel po' di tempo E Russell stava anche superando Bottas con una Williams ragazzi Cioè questo non l'ha affatto presente nessuno Il fatto che è colpa di Bottas, colpa di Russell Ragazzi Bottas e Russell erano in lotta Che uno aveva la macchina migliore e uno la macchina peggiore Non so se mi spiego la figura di merda che oggi ha fatto Bottas Ha fatto più figura di merda lui No mi è venuto un paragone che non posso fare Mi è venuto un paragone che proprio non posso fare Perché se no se mi sentono diventa un casino Però ragazzi Veramente ha fatto una figura di merda allucinante Allucinante Ora non voglio dire che è colpa di Russell Non voglio dire che è colpa di Bottas Forse è più incidente di gara oserei dire Chiaramente entrambi erano frustati Perché Bottas ha fatto il dito medio Russell gli ha dato uno schiaffetto E Bottas ha anche riportato Potrebbe anche essere un fortunato Bottas E chi è che lo andrebbe a sostituire? Proprio George Russell ragazzi Quindi la situazione non è proprio idillia che è il Mercedes Finivano anche secondi nel mondiale Non fosse stato che Perez Ha voluto andare lungo per campi pure lui Perez però ragazzi Pensate quanto è stronzo il mondo Perez va lungo A lui è tutto ok Cioè nel senso Perez a lungo E perde 40 secondi Quello che perde E si arrangia Si attacca al cazzo Hamilton va lungo Rimane lì 20 secondi Ne perde altri 40 A momenti si fa doppiare Dopo 50 secondi che è nella ghiaia Capisce che deve fare retromarcia Fa retromarcia Retromarch Safety car Safety car Ecco la macchina più veloce Arriva secondo C'è da dire che lui ha fatto quei sorpassi In una decina di giri ragazzi Insomma in una decina di giri Lui ha superato il mondo Stroll, Gasly, Vett Come cazzo si chiama? Stroll, Gasly, Sainz, Leclerc e Norris Quindi ha fatto un bel po' di sorpassi Mentre Bottas per superare a tutti gli altri Ci ha dovuto mettere la vita Questo è vero È vero che magari Superare con l'intermedia magari era più difficile Non lo so Però insomma anche questo C'è da dirlo Però Hamilton ragazzi È nato fortunato Cioè ma Quando c'era la bandiera rossa Ma che cazzo piangi Che sei stato fortunato Comunque se non ci fosse un domani Cioè tu già in Bahrain Devi baciare il cielo Perché Insomma per farti capire Bahrain ha fatto un carone a Hamilton Gli ha dato anche i nove nelle pagelle A prescindere dalla macchina Da se la Mercedes si imbroglia o meno Hamilton è stato un grande in Bahrain Però è nato fortunato Verstappen che lo ha deciso di attaccare Proprio in quel punto Dove poteva andare fuori dai track limits E che poi lo fa ripassare Giustamente Perché ogni sorpasso fatto fuori dai confini di pista Non va convalidato Però da un lato Hamilton È anche stato leggermente fortunato Che magari gli hanno anche sbagliato La strategia a Verstappen Ragazzi che poi Verstappen ha fatto Un super rimontone Su questo ci mancherebbe altro Quindi veramente Un Un Tra l'altro un Verstappen Che bisogna farmi complimenti Gara Tra l'altro Verstappen Se vedete Ogni gara pazza vince lui Cioè ogni gara pazza È vinta la Verstappen ragazzi Perché magari viene sottovalutato per questo Che lui vince le gare matte Però ragazzi Verstappen in questo momento Penso che sia Il Se andiamo nelle quote Se Hamilton è quotato a 2 Che vince il campionato E beh Verstappen è quotato a 2,20 Per farvi capire Cioè è il secondo favorito Allora l'altra del campionato Perché Bottas Rimedia già una trentina di punti di distacco Sia da Verstappen Che da Da Hamilton Non sono tantissimi In realtà 30 punti Ma in due gare Sono un'enormità Sono un'assoluta enormità Una che si prende 20 secondi da tutte e due Valtteri Bottas E l'altra che Viaggia nelle retrovie Veramente Un Valtteri Bottas Anomalo Incredibile Veramente Un inizio di campionato Schifoso Scusatemi se mi esprimo così Per Valtteri Bottas Poi Io esprimo Le mie caratteri Le mie Pareri Come pilota Io non discuto L'uomo Non discuto Il talento Eccetera eccetera Che ha Valtteri Bottas Perché se si trova lì Sicuramente Guida meglio Di 99 piloti Su 100 Che non sono neanche In Formula 3 Ci mancherebbe altro È vero che oggi Gira tutto intorno ai cash Però ragazzi Insomma Dico schifoso Nel senso Come pilota Di Formula 1 In confronto a tutti Gli altri 19 Che c'erano oggi Perché se io mi vedo Le La luce Che se ne avviene Se io vedo A Mazepin Non ho a Mazepin Se io vedo Latifi dodicesimo Che poi va bene Da sbattere i dettagli Vedo Russell decimo E tu Fai fatica Anche a proteggere La posizione Su Russell Alla fine Può essere colpo tuo Colpo di Russell Ma Russell Ha dimostrato Di essere di gran lunga Superiore a te Come pilota Poi non lo so Può darsi Io non è che sto al box Può darsi pure Che a botta Se l'hanno detto apposta Oggi vai piano Io non lo so ragazzi Io sto criticando Quello che vedo Io sono uno Che si basa Sui fatti ragazzi Perché se a me Uno Ma questo Nella vita in generale Non sono in Formula 1 Se a me uno mi dice Beh ciao Io sono tuo amico E' inutile Che tu gli confiti Tutti i suoi segreti E tutto Prima fatti da qualche dimostrazione Così come magari Qualche dimostrazione Dai tu a lui Di amicizia In modo che lui Si possa fidare di te Eccetera eccetera Ma se quella dimostrazione Non te ne date Ti vai a fare in culo Cioè questo è il discorso Che faccio io ragazzi Fatemi capire Se ne accordo o meno Comunque all'inizio C'era dire Ora parlando della Ferrari Perché ragazzi Stanno 3000 cose Di cui parlare Se parliamo della Ferrari Perché questo Sono anche io Che magari dovevo fare il video Della qualifica ieri Così alcune cose Le dicevo ieri Prima di parlare Della Ferrari Ragazzi Verstappen Bisogna fare i complimenti Tra l'altro Vince tutte le gare matte Perché dopo le critiche Di Van Zin Gli dice Verstappen Quando è favorito Gli manca sempre Quelli lì Si è fatto anche battere Da Perez Come se Perez Fosse un pilotino Ragazzi Verstappen ieri E' stato terzo Dietro Hamilton Dietro Perez Era il favorito numero uno A porre la pole E' vero Ma andiamo a vedere I tempi Ragazzi Perez Era a meno di un decimo Da Hamilton Che cosa vuoi dire Ma sapete quanto è un decimo In Formula 1 Cioè Sapete un decimo di secondo Voi ora voi guardate un video Di dieci minuti Sapete a quanto equivale Un decimo di secondo Su un tracciato Di cinque chilometri Cinque Sei chilometri Quello che è Cioè Un decimo Ragazzi Un decimo Verstappen Per aver perso quel decimo Ad aver fatto qualche errore Tipo Minimo Un errore proprio minimo Magari Sterzare Leggermente dopo di Hamilton E lì ti sei fottuto il giro In Formula 1 bisogna essere perfetti Ragazzi è vero Ma parliamo di un decimo Quindi cosa mi significa Verstappen Quando è favorito Io non sono uno Che difende di Verstappen Ragazzi Perché è uno Che mette spettacolo in pista È uno dei piloti È il pilota Che mette più spettacolo in pista È il pilota più talentuoso In questo momento Perché Charles Leclerc Con quella macchina Non si può giudicare troppo Io spero Di vedere le macchine Simile al 2019 Verstappen e Leclerc Che ancora Erano lì Dopo le lotte di Di Come si chiama Di Gran Bretagna E di Austria Però ragazzi Cioè Veramente È stupito Secondo me Criticare Verstappen Per un motivo del genere Piuttosto Tutti i riflettori A dire Verstappen Era favorito E a botta Schiaffato ottavo Con una Mercedes Non ci pensava nessuno Perché oggi Hamilton Lo sappiamo Hamilton è nato fortunato Se io ci avessi Un decimo del culo Di Lewis Hamilton Nella vita Stiamo parlando Di un diciassettene Palone d'oro a calcio Ragazzi Perché ogni tiro che faccio Posso buttire alla pizza Che entra nell'angolino Perché ragazzi Veramente Hamilton Ha un culo pazzesco Ma trovatemi Una persona sportiva Nella storia Che ha avuto il culo Di Lewis Hamilton Poi è anche il migliore Perché ragazzi Lo dimostra più volte Bottas Si faceva superare La rasse A momenti oggi Invece Hamilton Ora sicuramente Metà della griglia È superiore a Bottas Da due anni A questa parte Bottas Dopo il 2019 Ha smesso di correre Perché ha smesso di correre Poi nel 2020 Si ha vinto la prima gara Ma come Ha vinto la prima gara Con Hamilton Che si butta fuori Verstappen Che si auto elimina Con la Red Bull Albon che l'ha buttato fuori Hamilton E quindi da dietro Chi c'erano Norris e Leclerc Cioè per far capire Bottas Che ha battuto quella gara Norris e Leclerc Ne ha vinta un'altra Dove Hamilton Si è fatta fuori E aveva la macchina È più veloce Quindi Bottas Di che stiamo a parlare Dal 2020 in poi Bottas è nullo Anche quest'anno È partito Che è nullo Mettetevi i latifi Su quella macchina Vi fa le stesse cose Che va Bottas E io voglio bene A Bottas Però basta Sicuramente L'ha demoralizzato Il fatto Che era il cagnolino Di Hamilton E appena Non gli ha fatto più Da cagnolino E ciaone Leclerc Comunque Parlando della Ferrari Leclerc Meritava un secondo posto Assolutamente Oggi il podio Non lo toglieva nessuno Alla Ferrari Questo è quello Che credo io Ragazzi Oggi il podio Alla Ferrari Non lo toglieva nessuno Lo glielo ha tolto E sono la safety car Perché ragazzi Ditemi quello che volete Magari i riflettori Oggi sono su Verstappen Sul contatto Bottas Russell Sulla uscita di Hamilton Su tutto il mondo Ragazzi Però ragazzi Voi ditemi Il cazzo Che volete Ma oggi il podio Alla di Leclerc Sicuro È matematico Ragazzi Cioè Leclerc Va a 27 secondi Di vantaggio Su Norris Con Hamilton Fuorigioco Leclerc Oggi arrivava a secondo Perché dietro Leclerc Chi c'era Proprio Norris A 27 secondi Che cazzo Voleva recuperare Norris 27 secondi Quindi cambiamo Sta cazzo di regola Sulla safety car Perché mi sono rotto Veramente i coglioni Perché uno Leclerc In avanti Con 27 secondi Compa più fresca Invece no Deve arrivare alla safety car Ognuno mette le gomme che vuole Il vantaggio si annulla Allora dico io Ora sicuramente io Non sono uno della fia Che deve studiare Soluzioni alternative Alla fine la safety car Serve per mettere fascino Perché se no Le gare diventano noiose Ma non è neanche giusto Da un certo punto di vista Ragazzi Cioè così si falsano le gare Cioè veramente Oggi Leclerc Arrivava a secondo Perché ragazzi Io dico Io so come andrà A cambiare sta storia Se questa è oggi Era l'ultima gara Del mondiale E Leclerc Ed Hamilton Si lottavano il mondiale E allora Vedete come l'ha vinto Hamilton questo mondiale Cioè mettete che oggi Era l'ultima gara Di un mondiale Allora la prima Non ci poteva nessuno Ma se oggi Era l'ultima gara Di un mondiale Vedete voi Come andavano a cambiare Veloce le regole Della safety car L'alo perché è arrivato L'alo è arrivato Pochi anni dopo Che le macchine Ruzzolavano tra di loro Ovvero quando Alonso Si è ritrovato Grosjean qui Quindi insomma ragazzi Di che stiamo parlando Di quando Hulkenberg si è accappottato No quando Hulkenberg si è accappottato Mi sa che Gi là Già stava l'alo Però ragazzi Veramente non se ne può più Di questa regola Comunque Sainz è forte Deve solo cercare di Sainz deve solo cercare Di abituarsi più alla macchina Perché Quando era alla pari Con Leclerc Il passo gara di Sainz Era addirittura superiore A quello di Leclerc Senza sminuire Leclerc Che è un fenomeno Perché per portare Una Ferrari seconda E stava anche attaccando Hamilton all'inizio della gara Sei un fenomeno Però anche Sainz Gran pilota ragazzi La nostra fortuna Che abbiamo avuto Fattura Veramente una bella macchina E che È un fenomeno Comunque È un'altra cosa Le prime quattro scuderie Quest'anno sono già fatte Mercedes Red Bull Per il primo posto McLaren Ferrari Per il terzo Le altre Sono lontanano in luce C'è l'Alpine Aston Martin Restano a guardare Alpine Aston Martin Che secondo me Li ha anche superati L'Alfa Tauri Non si è visto Perché Oggi Gasly Ha combinato un disastro Creava i trenini Con le full wet Sunoda Ieri è andato a sbattere Oggi si è visto un po' meno Però insomma ragazzi L'Alfa Tauri Che in termini di prestazione Secondo me È stata anche superiore Aston Martin Alpine Poi Alpine Alpine Perché dico Alpine Abituato All'Alpine Insomma Comunque fa anche un po' Pensare male Sinceramente non penso Sia programmabile Ad alcuni che vanno A 300 all'ora Cosi del genere Ma un po' Fa pensare male Il fatto che Hamilton esce Nello stesso giro Bottas Provocano a safety car Bottas e Russell Due uomini Mercedes Quindi Un po' Ti viene da pensare a male Però insomma Non penso che uno Nel pre-cara Gli dice Ehi Ti dico Quando esce fuori Hamilton Quel giro Dovete fare l'incidente Anche perché Chi se l'aspettava Che Bottas e Russell Erano nelle stesse posizioni Può pure fare uno Un errore dei due E tipo Russell Che va dietro Poi pure Bottas Deve fare l'errore Per andare dietro Dove sta Russell Capito Quindi Non penso Se è programmabile Però insomma Leggermente Ti viene da pensare a male Diciamo così Quindi Hamilton È uno dei migliori È il migliori in pista Alla pari di Verstappen Credo in questo momento Ma è nato fortunato Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Sempre Forza Ferrari Se a tutti vi è piaciuto Nel video di lasciare Mi piace A caso contrario Mi dislike Commenta se siete d'accordo O disaccordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link Per seguirmi su Instagram Da MonoSporzior7 È tutto E noi Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi